sotto la lente di ingrandimento nell'undicesima puntata del grande fratello 2023 finiscono ai di baci e massimiliano varrese il pubblico non tifa per la nascita di questa coppia questo è poco ma sicuro infatti è raro notare tra i commenti sui social network qualcuno che sostiene la vicinanza tra i due gieffini anzi moltissimi telespettatori sognano una storia d'amore tra haidi e vittorio menozzi i due diretti interessanti però confermano stasera che tra loro c'è solo un'amicizia tra chi non sostiene la coppia haidi massimiliano c'è il padre di lei la baci a modo di riabbracciarlo e di scoprire che è contrario alla sua vicinanza all'attore ma prima alfonso signorini si concentra su quanto accaduto negli ultimi giorni nella casa di cine città il conduttore ammette di avere un sospetto ovvero che haidi si sia riavvicinata varrese per il televoto della scorsa settimana la baci però con il sostegno dell'attore fa presente di essersi riavvicinata qualche giorno prima e in effetti è così dopo qualche giorno di felicità haidi e varrese hanno ripreso a litigare in particolare ciò è accaduto quando è passato sopra la casa di cine città l'aereo dedicato alla baci e vittorio vedendo poi i due chiarirsi ha portato l'attore a sbottare dopo l'aereo è tornato a essere cupo racconta stasera ideal gf signorini rimprovera duramente l'attore per via del suo atteggiamento ricevendo l'applauso da parte del pubblico a casa non è bello vederti così da casa sei opprimente ho capito che sei fisico ma sembra che tu non le dia respiro ateggiamento ricevendo l'attore Grazie a tutti.